In maniera precauzionale anche in Puglia si è bloccato l'utilizzo di uno specifico lotto di vaccini AstraZeneca dopo alcuni decessi sospetti avvenuti in altre zone d'Italia sulla quale sono in corso verifiche. Le ASLA, ha spiegato l'ossessore alla sanità Pierbigi Lopalco, hanno controllato nei frigoriferi mettendo da parte il lotto segnalato. Sarà garantita anche la sorveglianza attiva su chi ha utilizzato quelle fiale. Ma i vaccini sono sicuri, ha detto Lopalco, sono l'unico mezzo conosciuto per stroncare la pandemia. In Puglia dunque si proseguirà con le dosi a disposizione. Dopo la provincia autonoma di Bolzano, la nostra regione è la prima in Italia per utilizzo di vaccini, ma adesso le dosi iniziano a scarseggiare. Sono state somministrate 410.417 dosi e ne restano poco meno di 18.000 in riserva. Tra questi probabilmente ci sono anche dei fuori lista che non avrebbero avuto diritto alla vaccinazione. Per questo i capogruppo del centro-destra in consiglio regionale hanno chiesto formalmente la convocazione di un consiglio monotematico per essere debitamente informati sulle liste di prenotazione sulle modalità di svolgimento della campagna vaccinale. Un modo per offrire delle spiegazioni a tutta la comunità pugliese, spiegano in una nota. A fare clamore è la vicenda legata all'Asset, l'agenzia regionale che fa capo a Elio Sannicandro, che ha seguito l'allestimento di vari reparti covid in cui risultano vaccinate 14 persone. Il centro-destra non obietta per ora sull'opportunità del vaccino a questi soggetti, ma chiede di saperne di più, soprattutto nell'eventualità che si sia proceduto alla somministrazione per persone che oggettivamente non sono esposte a rischi particolari. Sono stati sollecitati anche i criteri con cui sono composte le liste dei riservisti preparate dal Policlinico per non sprecare le dosi a fine giornata. Se da un lato la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, è chiusa in un no comment, si fa sentire il capogruppo del PD, Filippo Caracciolo. Se ci sono stati abusi, dice giusto che i responsabili siano puniti, ma aggiunge se il centro-destra chiede informazioni è più rapido convocare l'assessore Lopalco in commissione. All'assessore alla sanità, però, a detta del deputato di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, ci sarebbe da chiedere anche del piano vaccinale pugliese, che ad ora non è ancora noto.